...parabile. Siamo anche se si convincerà che se non è entrato qui per una finzione alla quale ho preso gusto, adesso questa finzione si dovrà portarla fino in fondo, fino al punto. Ma non che io debba appropriarmi veramente di queste 500.000 lire, no. Faccio tutto gratis. Anche il dramma di questo punto. È il piacere che mi sono preso. E non crediate che mi è pregato la minaccia fatta palenare di quelle del bambino. Se volete me le faccia io, non credo al bambino. Cos'è? Se volete ricatto? Ma smettila, qua nessuno può pensarlo. E se l'avessi pensato io? Ma ti dico di smette, no, io ricatto, no. Ma ti puoi dire una cosa fino al punto di vedere tutti affarrati intorno a me, ascolturati, di non prendere quel denaro che pur con tanta industria mi si voleva far prendere. Ma se tu non l'hai preso? No, no. Perché voglio che lo prenda un po' di strada. E lo prenderà. Ma è sicuro che lo prenderà. Lo prenderò. Lo prenderò. Oh Dio mio. Voi avete lasciato in altre mani le chiavi della cassa. Io no. Perché? Oh Dio mio. Dio mio. E qualcuno si era venuto a sapere che qualche confidente rifugge. Ma perché manca del denaro per la cassa? Oh Dio mio. No, 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 ti avrai quello signora, ti avrai quello. Ma il denaro è qua. L'avete preso voi? Sì. Ho detto che con me non si fanno le cose a mezzo. Ma tu mi volete arrivare adesso. No, non devo. Sapevo che a un gentiluomo come lei avrebbe ripugnato il levare del denaro dalla cassa seppure per un minuto. E allora se l'andate insieme io a prenderlo. Ma sì. E a quale scopo? Ma per dar modo a lei di fare il magnifico gesto della restituzione. Ma vostirate ancora in corretta patia. Ah sì. E se adesso lei non fa come dico io, quella che a lei voleva una funzione risulterà sul serio come voleva lei. Volevo, volevo. Voi lo volete capire che non lo voglio più adesso? Lo voglio più adesso. Ma che cosa? Perché io lo volevo a lei. Non ha detto che la signorina che aveva un tasco di canale. Ma non avete in tasca anche lei? Anche lei, signor Presidente. Anche lei. Io proposto vado alla riunione del Consiglio. Lei non può spiegherlo. Faccerò naturalmente l'intesa di sopravanza di madame. E darò, signor Martetto Fungi, la soddisfazione di sorprendermi a rubare. Poi, a comodare con le cose qui. No, va bene? Voi non farei. Lo farò. Lo farò, ma non lo sapete. Non può stare volontariamente per ladro quando non lo si è. Io ho detto che lo farò. Se continuate a rimborsi di non prendere quel ladro. Ma perché? No, mi dirò. Perché? Se io stesso ora qua vi prego di rimanere. E quale vuole se la rimanga qui da destra, signor Martetto? Ma se io vi ho detto che sono pentito, pentito sinceramente. Di che? O di ciò che ho fatto. Ma non di quello che avete fatto per essere pentito, ma di quello che non ha fatto. E che cosa avrei dovuto fare? Che cosa? Sareste dovuto venire da me dopo qualche mese a dire che se stavo nel partito, che era naturalissimo, e ci stavate anche voi per forza, c'era qualcuno qui al di sotto di voi e di me, a cui la nobilità dei principi e dei sentimenti avrete impedito di starci. E allora vi avrei dimostrato chiaramente la sicurità che venisse a rappresentare questa parte un uomo onesto. Ecco, sì, sì, avete ragione, infatti io me la sono presa con lui. Ti ha portato qua uno come voi. Ma no, lui ha fatto benissimo. Un uomo onesto non avrebbe mai accettato questa parte. Ho potuto accettarla io, e come ti sei visto, però posso prendermi anche il lusso di passare da dove. Ma perché? Come? Così, per cui. Ma chi ti costringe se nessuno lo vuole? No, ma siamo qui tutti a pregarvi. Tu per amicizia? Lei per il bambino? Tu vuoi dirti cosa? Ma anche per questo. E perché cosa? Se lo dico io perché cosa? Perché avete visto l'effetto di quello che avete ideato? Ma pensate che possa essere soltanto un lume per voi? Ma anch'io ho la mia carne che grida. Ho anch'io sangue, nero sangue, amaro di tutti i miei ricordi. La paura che mi si accenda. Ieri, quando questo signore l'ha accettato davanti alla vostra moglie, signora, il presunto mio burdo, io sono caputa vittima di un'altra consiglia che, da qualche tempo, stando qui accanto a lei, senza neanche usare di parlare, mi aveva preso questa vecchia carne. se è servita del vostro trabocchetto da bambini, signora d'Archese. Vi avrei voluto tacere, ingozzare tutto il tacere. Non l'ho saputo. La mia carne l'ha gridata. Ecco come volete che vi rimanga più di casa. Grazie. Grazie. Grazie.